Eccoci qui, cari amici di Viene a Vivere all'estero, buonasera e benvenuti. Oggi mi ritrovo qui sul tavolo a fare così una considerazione su cose che non noto più, però quando mi ci cade l'occhio e mi ci metto a pensare, effettivamente mi ricordo che per una persona italiana che magari è appena arrivata e vede sul tavolo queste cose qui potrebbe essere un po' una sorpresa, quindi quando si beve l'acqua, quando si beve l'acqua sempre nelle pinte, queste pinte o si comprano alla buona come si dovrebbe fare, oppure c'è la tradizione di portarle fuori dal bar e dice, ah non so, è una tradizione che anche gli irlandesi hanno ogni tanto, non la vedevo più anni fa, di riuscire comunque a portarsi a casa e al bicchiere in, così, ricordando una particolare serata e quindi a gente poi si fa la collezione, ah vabbè. E allora, cosa notiamo? Qui quando si va a comprare uno snack, gli danno come scelta questa roba qui, Bombay Mix, è una cosa che ho scoperto andando in India, che effettivamente loro la prendono, e leggete qua gli ingredienti, insomma c'è scritto arachidi, lenticchie, piselli, uva sultanina, è molto piccante, ed è qualcosa che se non l'avete mai provata, Bombay Mix, provatela, è qualcosa di abbastanza unico nel suo genere. Poi, notate che qui l'acqua, l'acqua in molti posti, sinceramente la prendiamo dal rubinetto, non ci facciamo i problemi di andarla a comprare, è un'acqua che in alcune zone, qui dove abito va piuttosto bene, ma in alcune zone purtroppo è molto piena di fluoro, lo sentite proprio l'odore, specialmente se lasciate, lasciate un attimino evaporare l'acqua nel lavandino, sentite che è molto fluidata, no? Qui diciamo che questo odore di fluoro non lo sentiamo, è un'acqua molto dolce e quindi o avete la britta per filtrarla, quindi quella caraffa con quei sali minerali penso, insomma carboni attivi per filtrarla, oppure la bevete così. E poi qui discorso patatine, le patatine all'italiana, qui non è che ci sono proprio tanto, quindi bisogna cominciare a abituarsi a gusti nuovi. Quindi qui vedete c'è crema acida e cipolla, quindi queste, cioè patatine salate classiche normali non le troverete, quindi fatemene una ragione o ve le fate spedire, oppure potete prendere le Pringles, se le Pringles o le sottomarche delle Pringles, quelle sì, esistono la versione classica, però la classica scelta di patatina all'italiana non c'è. E quindi queste sono un po' le differenze che voi notereste, ma l'occhio mi cade ancora su altri elementi che io convivendoci talvolta mi discordo. Allora, l'appetito vi è mangiando, come si suol dire? Allora, allungo il braccio per farvi vedere i cracker, i cracker, questi sono cracker penso che vendano da Aldi o da Lidl, e vedete, hanno tutt'altre forme, quindi sono cracker molto gustosi, eh, pure questi, però non hanno la forma classica, e quindi sono pensati per essere così usati come nella figura. Allora, eccolo qua, cracker con il formaggio sopra, vedete? Quindi i cracker si usano in quest'altra maniera. Qui l'occhio mi cade su questo tipo di cose, che in Italia sinceramente non l'ho viste molto, insomma ci arrivate, sono saliera e portapepe che hanno il macinino incorporato sotto, e quindi voi ci mettete il sale grosso e questo ve lo macino, ci mettete il pepe grosso e ve lo macino. Eccoci qui, giusto per presentare un po' le cose in cucina che di solito sono lì sui tavoli, e chiaramente se non dovevo fare questo video nemmeno notavo più la differenza. Bene ragazzi, noi ci vediamo in uno dei prossimi video, a presto, ciao!